Tireno Bianchi è il presidente, io lo chiamo sempre console, console della compagnia lavoratori portuali Pietro Chiesa, una delle più vecchie compagnie di lavoratori portuali, penso d'Italia, ma anche in Europa siete messi bene Tireno. Tireno, che cos'è cambiato nel lavoro portuale? Perché si dice che le compagnie scendono a terra, ma le mani vanno sempre bene? Sì, le mani vanno sempre bene, non solo, ma in questa crisi dei noli che c'è stata in questo periodo, soprattutto nel settore rinfusiere, abbiamo rivisto passare dalle banchine dei porti, soprattutto dalle banchine dei porti di Genova, vecchissime navi che non avevamo più visto da tanto tempo. E questo ha comportato di ritornare a lavorare, non dico come nel secolo scorso, ma quasi, perché la struttura di queste navi pensavamo di non incontrarle più in un lavoro che facevamo, e invece sono ritornate di nuovo in auge perché hanno dei costi chiaramente inferiori e quindi vengono adoperate e vengono noleggiate. E purtroppo questo non è un fatto positivo da questo punto di vista. E dal punto di vista dell'espansione, poi della portualità di prestigio, lavoro e operazione, io sono uno di quelli che dico che non si può parlare solo di container, il porto non può essere solo fatto di container, il porto è fatto di tante cose, di tante merci e dobbiamo tenerlo e svilupparlo per quello che è. Perché poi il container, l'abbiamo già visto, basta che si spostano due o tre soggetti, che si entra in crisi, si sposta, si fa. E soprattutto poi il container richiede a quei porti che sono a filo di costo, come molti italiani, perché fanno parte della loro storia, dei sacrifici da un punto di vista territoriale e ambientale che non è poca cosa e che non vengono poi ripagati da questo punto di vista, né in maniera economica né in maniera di vivibilità. Un'ultima domanda, Consoli. Durante la presentazione di un libro di Sergio Bologna, lei parlando di riforma portuale, non mi è parso proprio che l'avesse convinta la riforma del Rio. Sì, è vero, io non sono convinto di questa riforma. Intanto è fatta a pezzi e non si capisce se è il secondo pezzo, quello che riguarda il lavoro, andrà avanti, non andrà avanti e che cosa succederà. Non mi convince proprio come ispirazione da questo punto di vista. Per paura di fare una cosa che sia forse troppo moderna abbiamo fatto una cosa ancora più vecchia, secondo me. Nel senso che il porto, l'autorità del sistema, è vincolata addirittura da tre ministeri, ha meno spazio di prima, e poi la chiamiamo autorità del sistema e pensiamo al sistema logistico. Ma come fa l'autorità del sistema ad andare in quote di minoranza senza avere un minimo di controllo? Si dice mai abbiamo dato lo spazio alla possibilità di determinare e scegliere per conto dello Stato il demanio pubblico. Ebbene, ma quello nelle concessioni c'era anche in parte prima, non è che non ci fosse. Il problema del sistema non è soltanto il discorso del demanio pubblico, ma è qualcosa che va oltre questa cinta. E quindi oggi si dà la possibilità di muoversi in questa situazione o altrimenti rimane difficile. Perché un soggetto così deve essere anche promotore di iniziative, perché deve fare da traino agli investimenti privati, che come sappiamo in Italia sono sempre molto attenti a fare questo tipo di investimenti, perché poi lo sappiamo tutti, gli investimenti nei trasporti, nel mare, tutto quanto, è ad altissimo rischio. Abbiamo visto i fallimenti che ci sono stati, quindi nessuno si vuole bruciare. E da questo punto di vista un'autorità pubblica che possa trainare questo tipo di percorso sarebbe utile.